Rieccoci nuovamente insieme nella storica concessionaria Lankar di Borgaretto di Beinasco. Io come sempre vengo benevolmente accolta da Cristian qui accanto a me. Ciao! Grazie, ciao e ben ritrovati a tutti. Sì, certo, siamo qua al fondo di corso Unione Sovietica per chi viene a trovarci da Torino oppure all'uscita tangenziale Stupinigi, quindi comodissima anche per tutti i nostri clienti che vengono a trovarci dalla Valle d'Aosta o dalla Liguria. Vi ricordo che noi siamo aperti tutti i giorni della settimana, compresa anche la domenica e in questo mese di dicembre insieme a Babbo Natale qua da noi arrivano veramente un sacco di regali e un sacco di opportunità. Bene, allora io vi consiglio di non perdere assolutamente questa puntata prettamente natalizia firmata all'Ankar. State con noi! E sempre parlando dei doni non possiamo non partire dai due grandissimi regali che ci ha fatto la Peugeot di quest'anno e uno è appena arrivato, che vedete alla mia destra, Peugeot 308, nuovissima, qua da noi da provare su strada per fare un test drive approfondito e apprezzare le qualità di questa vettura ma anche e soprattutto 2008 che invece è arrivato pochissimo tempo fa, qualche mese fa ma l'eccezione qui da noi è che avete la possibilità di avere alcune vetture in pronta consegna quindi ritirabile nell'arco di pochissimi giorni anche nell'allestimento 1.6 115 cavalli all'UR con grip control e le cerchi da 17. Ed ora parliamo anche concretamente di prezzi e di veri regali e di veri vantaggi Peugeot 208 solo qui da noi, solo alla Lankar potete trovare al prezzo più basso che potete trovare sul mercato e qui da noi Peugeot 208 5 porte, active, full optional, touchscreen, bluetooth, regolatore limitatore di velocità, climatizzatore, radio ovviamente, 6 airbag, SP, antistrittamento, quindi full optional, aziendale, pensate 8.900 euro. Parlando di grande risparmio non possiamo non parlare di 207 plus allestimento con la motorizzazione GPL quindi B-Fuel, esenzione bollo per sempre, costo di gestione bassissimo e costo chilometrico il più basso che potete avere. La macchina è full optional perché in quanto a dotazione di sicurezza abbiamo ABS, SP, antistrittamento, climatizzatore, fendinebbia quindi la macchina è full optional, disponibile 3 o 5 porte, pensate a meno di 10.000 euro. Solo da noi a 9.950 euro potete avere 207 plus 1.400 GPL, nuova da immatricolare, 5 porte, full optional. E qui da noi potete trovare i veicoli commerciali Peugeot, tutta la gamma, essendo specializzati in questo, in pronta consegna. In questo momento per tutte le aziende, i professionisti che hanno interesse a fatturare il mezzo ancora nell'anno in corso qui da noi potete trovare tutta la gamma, in pronta consegna, in disponibile a essere fatturata nell'arco di pochissimi giorni. Dandovi alcune cifre partiamo dal Bipper a partire da 8.300 euro, salendo abbiamo Partner 8.990 euro, Expert a 12.800 euro e il Boxer che per evidenti questioni di dimensioni qua all'interno non ci sta, ma siamo a 13.400 euro. Abbiamo fatto appena due passi, ci siamo trasferiti nello showroom Hyundai, concessionario ufficiale per Torino, centro ufficiale Hyundai per Torino, l'Ankar, al fondo di corso Unione Sovietica, uscita tangenziale Stupinigi. Qui da noi potete trovare tutto quello che riguarda il mondo Hyundai, essendo centro ufficiale Hyundai anche le novità in anteprima, come quella che vedete al mio fianco, quindi quest'altro importantissimo regalo di Natale, Hyundai, nuova Hyundai i10, bellissima, compatta, veramente full optional, tutte le dotazioni di serie fin dal modello di allestimento dotate tutte di 4 freni a disco, ABS, SP e antisettamento anche dal primo allestimento e ovviamente dotati di 5 anni di garanzia, di tripla garanzia Hyundai. Parliamo ora di Hyundai i20, tanta qualità ma soprattutto tanta concretezza, è un prezzo veramente bassissimo, pensate 9.400 euro per la versione benzina ma soprattutto 94 euro al mese con la formula iPlus che comprende 5 anni di tripla garanzia e dopo 36 mesi potete decidere se tenere la macchina, sostituirla oppure rifinanziarla. Potete fare quello che volete ma avete la certezza per 36 mesi di avere un esborso minimo. Parliamo ora di iX20, la regina del suo segmento, monovolume compatto, richiestissimo. Qui da noi la trovate in tutta la gamma in pronta consegna, nelle varie motorizzazioni, ma la trovate soprattutto a partire da 10.900 euro, prezzo eccezionale, solo qui da noi trovate questi prezzi. Abbiamo fatto pochi metri, ci siamo spostati nello showroom della concessionaria ufficiale da oltre 50 anni lancia per Torino, l'Ancar. Vi ricordo che il nostro gruppo è anche concessionario Alfa Romeo e Fiat e proprio per questo motivo al mio fianco vedete una Panda e soprattutto avete la possibilità di avere Panda al prezzo più basso che potete trovare sul mercato. Questo è quello che ci contraddistingue, è Panda Easy 1200, full optional, climatizzatore, barre, radio, quindi full optional, diverse tinte con quinto posto, pensate al prezzo di 8.500 euro. Non poteva mancare 500L, anche in questo caso nell'allestimento più bello, più completo lounge, dotate di accessori ancora a parte, quindi il tetto in vetro apribile, i cerchi del 17, sensori parcheggio, quindi full optional e il prezzo, pensate, è solo di 17.950 euro. E parliamo ora di Alfa Mito, perché questo mese su Mito, 1.470 cavalli adatta per i neopatentati, nuova da immatricolare, il prezzo è veramente strepitoso. Siamo a 10.500 euro per Mito, 1.470 cavalli, veramente full optional, solo qua da noi alla Lancar. Giulietta Progression 1.6 Multijet 105 cavalli, pensate a partire da 17.900 euro. Il prezzo è veramente bassissimo, al prezzo che trovate dagli altri una vettura d'occasione, qua da noi comprate la vettura nuova, chilometri zero. Ypsilon Elefantino, nuova da immatricolare, solo qua da noi, solo per questo mese, è a partire da 9.450 euro. Avete sentito bene, 9.450, solo qui da noi, solo alla Lancar. E dopo aver passato in rassegna tutti i tuoi doni natalizi, siamo in chiusura per fare gli auguri ai nostri amici. Certo, per fare gli auguri, aspettarvi qua in salone per farvi se possibile di persona, offrirvi un caffè e soprattutto darvi la consulenza necessaria per l'acquisto della vostra vettura, che vi ricordo essere, dopo la casa, il bene più importante. Quindi venite qua da noi con fiducia, perché troverete un team affiatato di persone che cercano veramente di darvi una mano per fare l'acquisto migliore, con la certezza che qui da noi risparmiate sul prezzo sicuramente e sui prodotti che potete acquistare con tranquillità, quindi prodotti finanziari e servizi. Vi ricordo che siamo aperti tutti i giorni, compresa anche la domenica, tutte le domeniche, anche in questo periodo di feste, e siamo al fondo di corsione sovietica oppure all'uscita della tangenziale Stupinigi, scusatemi, ma anche e soprattutto a Carmagnola, molto comode all'uscita dell'autostrada. Bene Cristiano, io ti ringrazio, ringrazio voi dell'ascolto e come sempre l'ina la regia.